Una sala grimita questa mattina per uno dei primi appuntamenti in occasione della celebrazione del giorno della memoria. Studenti delle classi quinte degli istituti superiori di Fano hanno presenziato al racconto delle tragiche vicende che hanno coinvolto negli anni migliaia di ebrei deportati nei lageri di concentramento nazisti. A seguito degli interventi del presidente del consiglio comunale di Fano Rosetta Fulvi e dell'assessore ai servizi educativi Mascarin, il direttore della fondazione Villa Emma, si è soffermato sulla vita e la mutilazione dei tanti ebrei attraverso le storie di sangue risparmiato e dei giusti, portando alla riflessione e garantendo agli studenti strumenti necessari alla creazione di una propria opinione sui tradici fatti accaduti. La ricerca storica, l'insegnamento della storia sono lì a non solo costruirci un'immagine e una interpretazione del passato, ma sono anche a consegnarci nelle mani una possibile lezione di metodo. Questo vuol dire rispondere anche alle emergenze, alle domande del nostro tempo, a partire da una base di informazione sulle cose e anche di approfondimento sulle questioni. Lei è direttore di Villa Emma, ha giocato un ruolo fondamentale soprattutto per l'accoglienza di questi ebrei? La storia di Villa Emma e dei ragazzi ebrei salvati a nonanto la si fonda sul concetto di accoglienza. Di un'accoglienza però, ecco, questo voglio sottolinearlo, non solo spinta da una pulsione umanitaria e di accettazione della condivisione del destino di persone in pericolo, di persone in affanno, di persone che cercavano una condizione migliore, non solo questo. Villa Emma è portata anche un esempio di organizzazione per accogliere e soprattutto per organizzare la fuga di questi stessi ragazzi in Svizzera quando è stato il caso, cioè quando l'Italia è stata invasa dalla Germania nazista. È successo che la popolazione, non tutta ma una parte consistente, ha saputo da un lato organizzarsi, dall'altro rimanere passiva ma silenziosa, quindi non si è trasformata negativamente nel ruolo del carnefice. E solo questo doppio ruolo di accoglienza umanitaria e di gestione attenta dell'emergenza della fuga hanno fatto sì che un'intera comunità di ebrei fosse salvata come in pochissimi altri casi si è registrato in Europa. Poi un dibattito ha preceduto la cerimonia di commemorazione nell'atrio del palazzo comunale con la deposizione della corona d'alloro in memoria dei superstiti dei campi nazisti che in viaggio per il costituendo Stato di Israele furono ospitati dal dicembre 1945 al maggio 1948 dalla città di Fano dove trovarono da come citato dalla targa tanti veri amici, tanti cuori sinceri e animi cordiali. La giornata è stata istituita come ha ricordato il primo cittadino con legge e con l'obiettivo di riflettere, comprendere e capire le tante atrocità che hanno subito le vittime della Shoah. Il giorno della memoria è un momento importante perché non dobbiamo dimenticare che fino agli anni 90 si conosceva poco grazie agli ultimi 15-20 anni, grazie al lavoro di ricerca, alla riproduzione delle testimonianze, di tutte quelle persone che poi hanno capito che andava raccontato perché andava anche trasmesse e testimoniata questa cosa, non deve evitare che certe atrocità non si ripetano. È un bel momento che fa onore a tutti noi ma è anche un momento per non dimenticare, per capire che bisogna rispettare gli altri, non bisogna essere indifferenti e quando accadono e ci sono segnali che vanno a nuocere il diritto delle persone, bisogna essere attivi e impedire che ciò accada.